Giornata di sciopero per i tassisti pescaresi all'aeroporto d'Abruzzo dove ci troviamo in questo momento. Sciopero annunciato sabato scorso per protestare contro questo decreto della Regione Abruzzo firmato dal Presidente Marsilio che ha stabilito che due degli otto stalli presenti qui nello scalo aeroportuale siano destinati ai tassisti teatini. Voi non siete d'accordo e questa è la ragione appunto dello sciopero. Buongiorno, sì questa è la motivazione perché non la riteniamo giusta perché licenze di altri paesi vengono a sostare all'interno della città di Pescara e anche per dire al Presidente Marsilio che poteva pur interpellarci a noi e a tutta la città di Pescara. Nessuno ci ha chiamato, nessuno ci ha chiesto, è stato firmato un decreto in agosto, pubblicato in agosto all'insaputa di tutti e questo ci dispiace, ci fa pensare che il Presidente abbia percorso una cosa antipescarese in pratica perché almeno chiederci cosa poteva provocare un decreto del genere poteva anche domandarcelo, gli avremmo risposto tutte le problematiche a cui adesso andiamo incontro. Comunque prenderemo tutte le cose per potergli far annullare questo decreto. Voi avete anche specificato, lo avete fatto anche nei giorni scorsi, che non è una questione di campanilismo ma soprattutto una problematica derivante anche dal lavoro che in alcune ore della giornata è praticamente inesistente qui in aeroporto. Adesso che è estate ci sono più voli, questa mattina nell'arco di sei ore è arrivato un solo volo con poca gente che voleva il taxi. Oggi pomeriggio ci sarà qualche volo in più ma parliamo comunque di voli stagionali e voli a basso costo quindi di per sé la clientela è un po' esigente sullo spendere soldi e quindi non c'è tutto questo flusso di clienti per i taxi. C'è flusso per la città di Pescara ma per noi tassisti è abbastanza ridotto.